Buongiorno, per quanto riguarda il discorso della distribuzione automatica per cui siamo qui oggi presentando la manifestazione principe che è Venditalia che si svolgerà a Milano vorrei dare qualche numero per quanto riguarda il nostro settore, un settore che è sicuramente un made in Italy, siamo leader di mercato a livello internazionale avendo 810.000 distributori automatici installati sul territorio, anche quest'anno come nel 2016, nel 2017 abbiamo avuto un incremento di fatturato e di consumazioni, rappresentiamo circa 3 miliardi e 600 milioni di fatturato e oltre 1 miliardo e 8 di consumazioni nel mondo automatico e oltre 6 miliardi per quanto riguarda le capsule e i compostabili. È un mercato veramente, è una chicca, è un'eccellenza italiana perché all'interno del territorio ci sono i maggiori produttori di vending machine, di distributori automatici che esportano il 70% dei loro distributori all'estero. Quindi noi vogliamo invitare tutti a visitare questo evento che ci sarà a giugno dove presenteremo, i produttori di macchine presenteranno una tecnologia molto spinta, dove ci sono le smart, le vendi machine stanno diventando smart, dove ci saranno presentazioni di touchscreen, di app, di interattività con il distributore automatico da parte degli utenti finali che fanno sì che ancora una volta l'Italia sia leader a livello mondiale per quanto riguarda questo settore. Venditalia è anche quest'anno dal 6 al 9 maggio a Fiera Milano City, è la fiera per eccellenza nel mercato mondiale della distribuzione automatica. Abbiamo una presenza di oltre 200 espositori per 13.000 metri quadri prenotati e puntiamo a un mercato fortemente innovativo, quest'anno sicuramente faranno da scenario i touch, i distributori intelligenti, i micropagamenti diventeranno digitali per cui la presentazione di parecchie app che potranno interlocuire con la macchina, la presenza di espositori esteri è oltre il 30% e puntiamo nel 2020 a internazionalizzare ancora di più l'evento Fioralocchiello dell'industria italiana.